Una giornata magica nel segno di diversamente uguali, la manifestazione organizzata a Ceccano con grande successo dall'OGF, l'associazione ufficiale di gara Frusinati. Una kermesse che il vulcanico presidente dell'associazione Vincenzo Buggerelli ha voluto a tutti i costi e che ha reso felici associati ed associazioni operanti nel settore della disabilità. Proprio queste sono state le prime ad aderire alla manifestazione che si è svolta in Piazzale Europa a Ceccano. Tanti i momenti suggestivi durante l'evento, il passaggio acrobatico ad opera della pattuglia Blucirce, le quali hanno disegnato il tricolore, ma prima ancora il lancio dei palloncini alla presenza dei sindaci di Ceccano e Pofi e poi ancora i giri in auto da rally per i ragazzi. Molti i team presenti ad iniziare dalla rally game di Pofi, passando per la Sannita Mito Racing e poi ancora la squadra Corsi a Davelli Team, dei fratelli Gianni e Daniele, la Davelli Motorsport di Antonio Davelli, il team Ciociaro Corsi di Ferentino e anche la Palombi Motorsport e l'Appia Motors. La manifestazione è stata elietata inoltre da un forte gruppo di piloti locali, nonché dal gruppo Yankee 4x4 a Frode di Ceccano e da vari club, quello dedicato alla Lancia Delta, alla mitica Vespa, con una delegazione di Pofi. L'ennesima grande soddisfazione dunque per le OGF che hanno regalato un sorriso alle persone meno fortunate e stanno già preparando il Baborelli 2016 in programma nel prossimo inverno.